Questa è Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, un borgo medievale immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo che conta meno di 300 abitanti. I versi che sentite sono il canto dei lupi dell'Appennino, che ululano alla superluna di maggio. I versi risuonano in tutto il paese, dando vita ad uno spettacolo selvaggio e sicuramente suggestivo. Generalmente i lupi grigi ululano per radunare il branco, per avvertirlo di un pericolo o per comunicare a lunga distanza. Ed ecco un orso marsicano, filmato due giorni fa vicino Villa Celiera, sulla piana del Voltigno, a 1400 metri sul versante pescarese del Gran Sasso. E' sconfinato dalla marsica o forse dalla maiella, a dimostrazione dell'utilità dei corridoi ecologici, ovvero aree verdi, volte alla ripopolazione di determinate specie e alla preservazione di piante ed elementi territoriali. Nel frattempo, poco a largo della costa pescarese, ecco che tra le onde spuntano dei delfini, simbolo della città adriatica, che sembrano per niente intimoriti dall'imbarcazione. Verso di noi, stanno venendo verso di noi, guarda! Sullo sfondo la maiella è nevata, uno scorcio abruzzese unico al mondo, che rende facile innamorarsi della nostra terra. Durante il lockdown non sono stati rari gli avvistamenti di animali selvatici nei centri abitati, non più scacciati dal perpetuo inquinamento acustico. Lupi, orsi, delfini, però, sono sempre più rari in Abruzzo. L'inquinamento dell'Adriatico, infatti, ha notevolmente ridotto la biodiversità marina. I lupi sono sterminati da una caccia impietosa, gli orsi marsicani sono ormai ridotti a poche decine di esemplari. E questo a causa della crescente urbanizzazione e industrializzazione dei territori, che hanno ridotto drasticamente il loro habitat. Alcuni progetti continuano a minacciare ulteriormente molte specie in via di estinzione. Uno di questi è quello della centrale Snamma sul Mona, le cui infrastrutture attraverseranno diversi parchi nazionali e zone di pregio naturale. Durante il lockdown, però, sembrerebbe che la natura si sia riguadagnata un po' di spazio. Un'importante lezione per la fase 2. La speranza è che l'urgente ripresa economica non sia a discapito, come sempre accade, del patrimonio naturalistico del polmone verde d'Europa.